Credo che questa sia una prima volta nella storia del canale in cui signori portiamo un gioco di questo tipo Benvenuti su... vabbò questo è un gioco troll ok? C'è scritto il titolo Credo sia la prima volta che giochiamo ad un gioco troll Allora, diciamo ho fatto questi tipo di video dove i giochi facevano incazzare Però erano giochi che diciamo non erano 8, cioè troll Erano giochi difficili però non troll, ecco qua eh, allora Ok, ma ho capito Aha! Siuma, bene Ok, c'è un conto di tutte le morti perché Allora Shit! Serve però il conteggio di morti, serve... Bene, abbiamo già completato... Alla prima botta l'abbiamo completato, non ci credo Siuma, abbiamo... Perfetto, abbiamo già completato il primo livello praticamente Però meglio... Non moriamo per le spine, moriamo per il troll delle spine Comunque si sto... Ci sarà un troll... ecco qua, era... Mi sa che in questo gioco sei forzato a morire E' completato anche questo livello... Oh, è semplice... No Ok Oh mio Dio sono... Siuma, benissimo Siuma, si ma accetta... Accetta comunque gli uniti però... Ok Secondo me... Fuck Fuck Cacchio Questo è impossibile, questo è impossibile Che cacchio Mi ha fatto... Mi ha fatto... Adesso... Ok, va bene Al secondo ho già... Benissimo Ok Ha il solito? No, no, non è il solito Benissimo Ok Faccio attenzione qua Benissimo Corre, corre Guaio Perché ho... Ho cantato... Siuma Spera un attimo Fuck Spera, spera, spera E si ferma Qua Sono uno stronzo Come non detto Aspè Wee, curre, curre, guai Non so perché sto cantando Curre, curre Forse perché Curre, curre, guai Io l'ho sentita tantissime volte Tipo Era un meme tipo Del Napoli Ok, non devo... Non devo seguire le monetine Va bene Ok Ok Ok, va bene Serviamo di punti invisibili Tipo Ah, invece se saltavo... Ok, va bene Quindi non devo seguire le monete Qua invece le tipo Shit Pam Pam Cazzo, mi trolla sempre sta... Allora, pam Pam Benissimo No Dio, dio, dio Sto... Ma invece qui devo schivare le monetine del cazzo Ok Interessante Oh, no, 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 no Sto gioco lo platiniamo tutto, ragazzi Ah, qua benissimo C'ho i comandi invertiti Zoom Insomma, mi volete morto con i comandi invertiti Però Basta Devo smettere di cantare le canzoni napoletane Ok Va benissimo Qua proprio Ah Aspè Pap Pap Poi Pap Benissimo Aspè Ok Ah, così Qua proprio tutti Tutti i salti proprio O no Fuck Aspè Devo sentire quel suono Il fushio Il fushio Benissimo Ok Andiamo al pro Ok, passiamo al prossimo modo del frattempo O no Oh, no No Deve per forza unire per poterlo capire Ok Per Ragazzi Lui praticavo il gioco Giuro Sono Non ci credo Il primo rage game che facciamo Credo di averlo masterato forse perché c'ha vite infinite è semplice perché come si chiama quello là adventure che tipo gabby 16 bit non riusciva a completarlo cioè veramente il video là di adventure 2 io credo uno dei i miei video preferiti di sempre nella storia di youtube perché c'è veramente le relazioni che fa gabby in quel video veramente restano restano però un atto che sto un po' crepando un po' un po' troppo mortacci mia mortacci mia cosa scusate mi ero distratto comunque cioè quelle reazioni veramente certo che però scusate ragazzi sto un po' intrippando potrebbe essere questo però io so come si fa ok merda chi 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 c'è ah siamo ho capito pam pam faffanculo ragazzi comunque sarebbe figo parlare di talent dei doppiaggi italiani sarebbe figo farlo io so io so dove si fa però faffanculo scusate una bella parolaccia qua in mezzo scusate scusate faffanculo 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 benissimo ok level devil ma uffa Ok, devo saltare l'ultimo Per forza Scusate se Dico per forza Però vabbò Scusate ragazzi Che Dario Moccia è uno dei miei streamer preferiti In realtà non è vero Di Dario Moccia Di Dario Moccia mi guardo le live In realtà qualche cosa interessante L'ha fatta comunque Dario Moccia Ovvio questo mi trolla Di brutto Vaffan cuculo Faccio sempre gli stessi Bene E finiamo questo Questa parte di livelli E poi Oh no, devo Aspettare Ok Ok Andiamo avanti Aspettare YOLO Ma 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 Basta Beh perché io sto iniziando a parlare napoletano Boh E ora mi farò trollare E invece mi sono fatto questo Oh questo Non lo fa bene il troll Eh Ah ah Ok Ok Dario ultimo livello Questi tipo Questo tipo Questo coso marrone Si ha Come lo so Affoghi Affoghi nella terra Affoghi Affoghi nella cacca Benissimo Benissimo Wow Sono già a metà gioco Non doveva essere un rage game Forse lo sarà Più in avanti Vabbò Dai Dai Gioco Gioco Ufficiale Nuova serie Per il ritorno a Salerno Wow Si serie cortina Però cioè Ehi Eh Vabbò Ma Ma signori Ci vediamo Boh Una reaction Perché Boh Ragazzi Sto Sto facendo Non sapete cosa sta succedendo Eh Ma Ma si Noi ci vediamo Ciao